Prosegue il recupero di storici palazzi di Pordenone. Questa mattina infatti si è tenuta la cerimonia di collaudo della facciata restaurata del palazzo Ex Loredan ed Ex Dolphin, oggi di proprietà dei Conti di Porcia, in Corso Garibaldi. Sono intervenuti i rappresentanti della Fondazione Krupp, della Sovrintendenza, i proprietari dell'edificio, della ditta restauratrice, il progettista e i tecnici comunali. Presente anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Dobbiamo ringraziare i Principi di Porcia e la Fondazione Krupp, ancora una volta, perché la città si è ulteriormente abbellita e in Corso Garibaldi la facciata dei due palazzi Ex Dolphin, adesso Principi di Porcia, le due facciate sono ritornate bianche come erano un tempo e danno una luce straordinaria al nostro corso. Qualche cosa ha fatto con grande cura, con grande attenzione, con rispetto verso la storia di questi due palazzi splendidi che sono in Corso Garibaldi e penso che ne dobbiamo gioire perché ancora una volta la città si abbellisce ancora di più. Adesso questo corso è una continuazione perfetta di Corso Vittorio e ogni qualvolta abbiamo un ospite che viene da fuori rimane stupito e meravigliato di come queste facciate siano conservate, della cura che noi mostriamo. Quindi una bella giornata, speriamo di averne ancora, proprio perché seguendo questo filone alla fine avremo un centro città che dal punto di vista del colpo d'occhio sarà imbattibile. Grazie a tutti.